Avevamo vent'anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevamo l'altra riva alla vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte. Ben ritrovati in questa nuova puntata di Avevamo vent'anni. Oggi iniziamo parlandovi di un'importante iniziativa che è avvenuta a Parma dal titolo Abbiate cura dei miei anni. Ed è un'iniziativa alla quale ha partecipato il segretario generale nazionale Ivan Pedretti e dove si è voluto parlare della condizione degli anziani a Parma, partendo purtroppo dai casi di violenza, ma soprattutto poi per passare a quella che deve essere la prospettiva, una nuova progettualità, anche innovativa, su quelle che sono le politiche rivolte agli anziani, a partire dalla domiciliarità. Oggi però vogliamo anche farvi incontrare delle persone che vi daranno dei consigli, a partire consigli fiscali. Intervisteremo Valery Giorzetti della SERCOP che vi parlerà delle novità sul 730, in particolare sulla proroga della presentazione dei 730 e su delle nuove detrazioni fiscali. Oltre alle detrazioni già previste nelle campagne precedenti del 730, ad esempio la detrazione per le spese mediche, per le spese universitarie, per le spese relative alla frequenza agli asili nido, da quest'anno una delle principali novità introdotte è la possibilità di scontare da parte dei genitori le spese sostenute per la frequenza alle scuole materne, alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, comprensive delle spese sostenute per il servizio di mensa scolastica. In un limite massimo di 400 euro annui per ogni figlio è prevista una detrazione del 19%. È possibile presentare il modello 730 2016, redditi 2015, sino al 23 luglio 2016, poiché è stata concessa una proroga per la presentazione del modello. Sarà possibile fissare un appuntamento per la compilazione del modello 730 2016 presso il nostro CAF al numero 0521 297 888 o tramite l'indirizzo mail servizi fiscali chiocciolacglparma.it In questi giorni stanno arrivando a casa le buste arancioni, sono quelle spedite dall'Inps. Sentiamo cosa ne pensa il direttore dell'Inca, Nadia Ferrari. Da alcuni mesi leggiamo sulla stampa, abbiamo notizia di queste famose buste arancioni, famigerate posso dire, buste arancioni che l'Inps dovrebbe spedire a 7 milioni di contribuenti. Possiamo dire che a oggi nella nostra provincia non abbiamo avuto riscontro, non ne sono arrivate anche perché sono state inviate da ciò che ci risulta in via sperimentale in alcune province, ma appunto non qua. Che cosa sono le buste arancioni? Dovrebbero essere la raffigurazione della posizione previdenziale delle persone che le ricevono con la proiezione della loro situazione pensionistica da qua al futuro. Si tratta di pura teoria perché per come è strutturato a oggi il mercato del lavoro, se una persona ha oltre 50 anni potrebbe avere una certa attendibilità. Non l'ha, certamente per i giovani che oggi più che mai vivono una situazione lavorativa precaria e discontinua. La proiezione prevede infatti che la situazione raffigurata sia una situazione stabile di contribuzione continuativa basata su una retribuzione che si percepisce oggi e che sarà così fino all'età del pensionamento. Mi preme evidenziare quindi la inefficacia, alla non validità di questa procedura, proprio perché, come dicevo prima, i giovani oggi non hanno delle posizioni lavorative stabili. Hanno spesso dei contratti di lavoro precario, posizioni che possono passare da contratti di lavoro subordinato, di tipo interinale, oppure a tempo determinato, nel migliore dei casi, oppure con voucher. Quindi situazioni lavorative le più svariate, alcune non coperte da contributi, altre con una copertura previdenziale davvero irrisoria. Noi sappiamo che per come è strutturato oggi la modalità di calcolo della pensione è possibile anche mettere insieme contributi versati in varie delle gestioni, purché vi sia il raggiungimento di un minimale. Se questo minimale non è raggiunto, non è possibile fare nessun tipo di accredito, diciamo, di utilizzare i contributi. Ora, il mio ragionamento è, se noi continuiamo a favorire la diffusione di rapporti di lavoro precari, se continuiamo a favorire l'utilizzo dei voucher, io credo che questa operazione delle buste arancioni sia davvero una inutile spesa, perché non stiamo costruendo il futuro dei nostri giovani, non lo stiamo costruendo dal punto di vista economico, ma non lo stiamo costruendo neppure dal punto di vista previdenziale. Pertanto stiamo parlando del nulla. Si leggono i dati, so che se ne è anche già parlato, che nel 2015 sono stati utilizzati 71 milioni di voucher. 71 milioni di voucher, se va bene, corrispondono a 71 milioni di ore di lavoro, che prevedono un versamento previdenziale irrisorio nella gestione separata, che significa il nulla. Detto questo, io credo che se davvero si vuole costruire un futuro pensionistico per i nostri giovani, lo si deve fare promuovendo la diffusione di contratti di lavoro stabili. Soltanto in questo modo riusciamo davvero a pensare a un futuro che dia una pensione ai nostri attuali giovani. Adesso con il segretario organizzativo dello SPI di Parma, Claudio Mancini, vi spieghiamo cosa sta facendo la nostra organizzazione proprio per la raccolta delle firme sulla Carta dei diritti e sui referendum abrogativi in materia di tutela del lavoro. Lo SPI CGL e tutta la CGL in questo periodo è impegnata nella raccolta firme su tre referendum abrogativi e sulla legge di iniziativa popolare per la Carta dei diritti universali del lavoro di tutte le lavoratrici e dei lavoratori. Perché chiediamo ai pensionati di firmare questi referendum e la Carta dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici? Semplicemente perché si stanno utilizzando delle forme di assunzione che noi riteniamo illegittime oppure non consone al momento che stiamo vivendo. I voucher ad esempio hanno avuto un esploare nel 2015 molto elevato, erano serviti per far emergere il lavoro nero, mentre oggi vengono utilizzate per delle forme di assunzione a 7,5 Euro all'ora. Quindi si ledono i diritti dei lavoratori, si pagano meno contributi previdenziali e quindi questa è una forma di assunzione che noi riteniamo illegittima e chiediamo che venga abrogata. La seconda firma che chiediamo è sul licenziamento illegittimo. Non è possibile che un lavoratore venga licenziato senza una giusta causa e che questo lavoratore non abbia la possibilità di avere il posto di lavoro ancora di nuovo consolidato, ma liquidato oggi come oggi con 24 o 4 mesi di salario. Punto e basta. Quindi è offensivo per il lavoratore. Il terzo punto riguarda gli appalti. Oggi gli appalti sono molto utilizzati a diverse imprese. Se l'impresa cambia appalto il lavoratore oggi può essere licenziato. Noi chiediamo che questo non avvenga, che vi sia la continuità del lavoro e che se l'impresa appaltante non paga sia l'appaltatore a attribuire i lavoratori. E per concludere, nello spazio memoria, intervistiamo Luigi Pini, che è stato un attivista sindacale degli anni 50-60, è stato anche un politico, è stato un amministratore. Ha una storia interessante. Io ero un bambino, ero un bambino in zona di guerra e abitavo a Fragno a tempo di guerra e da Calestano siamo andati a Fragno. Finita la guerra siamo tornati a Calestano. La guerra l'ho conosciuta molto bene come bambino, mio padre era partigiano e conoscevo tanti partigiani, dei comandanti agli altri, ai partigiani tutti. Ho un grande rispetto per queste persone e un grande ricordo. A 22 anni ero consigliere del PC, quando si votava 21. A Calestano, non in posti particolari, ma a Calestano. Perché era difficile trovare un giovane che andasse in lista. Di solito c'erano una certa età, in certi paesi non si trovavano neanche di una certa età, perché c'era insomma un po' di titubanza. Io questo non l'ho mai avuto, sono stato abituato in una casa dove il pane era pane e il vino era vino. Necessario serietà onestà e poter guardare la gente negli occhi. Questa era la cosa principale. Da non uscire mai da quella direttiva. E posso dire che ho la mia età e non sono mai uscito. Gli ideali in cui credevo sono un po' morti, ma io credo sempre in quegli ideali. Penso che la gente possa riappropriarsene fino in fondo e andare avanti in quella direzione, perché il paese ha bisogno di quelle direttive. Ha bisogno. Mi sono inscritto al sindacato nel 54, quando sono andato alla ditta Ballestrieri. Siamo nel 2016, sono ancora iscritto a quel sindacato come pensionato. Io avevo tanti amici nel sindacato e nel partito. Come sono entrato alla FIAT dell'ingegnere Arturo Ballestrieri, è stato un grande datore di lavoro e questo ve lo dico perché lo merita. Se un lavoratore della sua azienda aveva bisogno e lui poteva dargli una mano, quest'uomo era in prima fila. Sempre. Si è sempre comportato bene con noi. Sempre, sempre, sempre. Mai far pesare qualcosa che magari poteva anche essere pesato, ma mai. Ci ha sempre dato una mano quando avevamo bisogno. E questo va riconosciuto. Le battaglie sul lavoro non sono mai terminate, neanche adesso. Bisogna farle. Specialmente in quei momenti che il sindacato e il lavoratore prendevano piedi dopo gli anni che ci sono stati. Ma non abbiamo mai trovato, le dico, all'interno dell'agenda una contrarietà nelle nostre mosse, nei nostri movimenti, nelle nostre scelte. Mai. Da mio papà ho imparato, e non solo da mio papà, ma anche da mia madre, dai miei genitori, dalla gente fuori, gente che lavorava con serietà, come ha lavorato con serietà mio padre, come si lavorava in quei tempi e anche adesso si lavora con tanta serietà. Adesso il mondo è più largo del lavoro e c'è qualcuno che tira un po' più male. Però la serietà è sempre la prima base sul lavoro. E allora il rispetto delle persone, il rispetto del lavoro, cercare di farlo bene, queste sono le cose che bisogna ogni giovane e meno giovane deve rispettare. I giovani di oggi hanno voglia di fare. È che ha le redini del paese, che si deve muovere per far sì che questi giovani riescano a fare, con il loro lavoro, le loro idee, la loro intelligenza, la loro preparazione. Sono giovani fenomenali, meravigliosi. Niente, di continuare con serietà, trovare il suo lavoro, cercarlo, specializzarsi bene e dare il contributo alla società, quel contributo che la società si aspetta. Però la stessa società a quel giovane deve dare un modo di vivere che sia sereno, che sia tranquillo a lui e alla sua famiglia e che il lavoro sia continuativo, che non ci siano problemi particolari. Averamo ventanne e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano le miga, che ne vanno la tra riva alla vita, tutto il bene del mondo, oltre il ponte.